Buongiorno, quante volte vi sarete chiesti che cosa succede ogni giorno in questa gabbia di matti? Ebbene, l'altro giorno è arrivato un cliente con una reflex e ha detto posso fare due riprese e due scatti? Ok, guardate un po' che cosa ne è venuto fuori? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti